Sai che saresti un ottimo padre? Però... Senti, Atos, ti fermi a cena da noi stasera? Credo che Atos abbia altri impegni questa sera. In realtà a me farebbe molto piacere restare a cena in convento con voi. Ero certa. Peccato, perché io ho un impegno questa sera. Rimarrai in convento a cena con loro. Scusi un attimo. Che cosa stai facendo? Niente, perché... Fammi vedere. Cosa? Quello che stai tramando. Mi sto solo assicurando che Atos sia un buon padre per Emma prima di dirglielo. E distinguere la vodka dal gin o conoscere la data di nascita di Coco Chanel sono requisiti imprescindibili, vero? Coco Chanel è sempre in pre... Pre? Quello che ha detto lei. Azzurra, tesoro. Avevi solo 15 anni. Nessuno te ne fa una colpa. Ma di che cosa hai paura? Io non ho paura di niente. Qui nessuno ha paura di niente. Grazie. 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 Grazie.